eccoci ciao a tutti dovreste sentirmi vediamo un attimo sì 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 microfono acceso quanto tempo sto in una location d'eccezione intanto per chi per chi ha seguito in questi in questi giorni vi hanno tenuto compagnia i miei colleghi di 27x parlando di un sacco di temi diversi tra l'altro dovrò recuperare bentornato grazie grazie mille e questa è una location nuova nel senso che sono dopo tipo due anni penso nell'ufficio di 27x che è disabitato qui c'è c'è praticamente c'è un delle assi un madrasso è un po che non ci vengo è usato ovviamente da chi da chi sta a roma e bene intanto salutate fatemi sentire il il calore che mi sono perso in questi giorni e scrivete in chat salutiamoci e spero soprattutto che queste queste settimane con questo test rodaggio con diversi personaggi interni anche un po esterni che si sono alternati si è andato si è andato bene e oggi però veniamo a noi abbiamo questo momento di ama di ask me anything quindi visto che stavolta durerà un'oretta invece un'oretta e mezza come al solito anche perché se partiamo adesso significa che vi devo lasciare in pace per cena e condivido lo schermo e metto le le domande dunque che ne ho raccolte un po in giornata allora dovreste vedere lo schermo adesso lo metto a schermo intero molto bene allora barbone is coming to rome ebbene sì grazie del bentornato dalla dalla sicilia allora primo primo punto ho visto online il tuo speech all'italian community summit ah sì community manager summit travel hackers che tra parentesi se non lo conoscete travel hackers è una start up con cui abbiamo lavorato se vi interessa un caso studio di strategia di acquisizione per un'app per i viaggi o di creazione community perché tutti questi elementi erano presenti vi consiglio il video integrale del caso studio che trovate su youtube nella playlist di interventi casi studio c'è la ripresa tutto quello che dico mentre chiara la parte di lancio quella sul referalo è un po meno ci puoi raccontare qualcosa di più dal punto di vista tecnico varia loops eccetera grazie in anticipo allora in quel caso specifico ma non è non è l'unico perché più volte più volte utilizziamo i referalo lo facciamo con viral loops le prime esperienze con i programmi di refer con tool per i programmi di referal che ho avuto le ho fatte con app viral quando era molto giovane di recente sì sia viral è voluto moltissimo al tempo era un po scassato non sono stato contentissimo ma la la qualità di design capire la profondità delle feature non era un super software super curato e però in realtà poi li ho fatti tutti e due in questo momento content for 7x abbiamo viral loops lo usiamo spesso viral loops e in quella strategia per fare un recap anche a chi non non ha idea di che stiamo parlando si trattava di un app di viaggio che abbiamo portato sul mercato tramite la creazione di una community perché nonostante il prodotto esistesse diciamo che alcuni elementi del modello di business non erano validati quindi anche se c'è il prodotto pronto ci siamo detti aspetta se lo lanciamo bustiamo tutto potrebbe comunque succedere una catastrofe non importa quanto budget ci butti perché non abbiamo certezze sulla value proposition sul sul target eccetera quindi abbiamo deciso paradossalmente di fare un passo indietro e di dire proviamo ad affrontare questa sfida di business come se il prodotto non ce l'avessimo e dovessimo fare proprio step 1 step 2 modalità lean le interviste le abbiamo saltate perché comunque avevamo altri strumenti per esempio il budget e abbiamo deciso di focalizzarci sul problema che questa risolveva e radunare persone appassionate di questo modo di viaggiare per cui si chiama travel hacking travel hackers l'abbiamo fatto creando un gruppo facebook e portandoci dentro la gente e poi solo dopo abbiamo detto signori abbiamo fatto quest'app che in realtà c'era da un po ma in sortina e abbiamo fatto un lancio nella community prima che fuori però a quel punto abbiamo cercato di spremere i contatti che avevamo raccolto invitando le persone a portare altra altra gente tramite la loro rete e quindi il programma di referral in quella strategia era sì impostato con viral loops ed era un programma di referral a premi quindi come funzionava c'era una landing page numero e queste cose non esistono più il lancio è finito sennò ve le facevo vedere c'era una landing page che diceva l'app sta arrivando il giorno x iscriviti per ricevere il link a google play app store per prenderla diciamo in anteprima tra virgolette e quando tu lasciavi il contatto per entrare in lista sulla thank you page ce l'ha scritto ma lo sai che più persone porti a quella landing page e più ti do dei coupon per pagare i tuoi viaggi nel momento in cui avrai l'app da dentro l'app e quindi c'era diciamo che l'opt in il fatto di iscriversi a questa lista significava anche automaticamente avere accesso al programma di referral e quindi nella thank you page c'erano le classiche palettine con i premi coupon 30 euro per il tuo viaggio 60 euro 90 euro fino a 120 euro se non erro per portare tot amici e chiaramente in alto il widget autogenerato che gli dava il suo link unico perché lui poi deve andare sui suoi canali fare quello che vuole e ha il suo link tracciato la cosa bella è che grazie ai 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 cookie a contatto se lui tornava su quella pagina non rivedeva la landing page ma rivede la pagina secondaria con tutto quanto i suoi punti eccetera varial loops quindi è il tool che reggeva questa parte di codici di punteggi e di consegna dei premi perché poi verrà loops dentro un po' come se fosse un mailchimp un active campaign non in generale però per esempio manda automaticamente le email per notificarti che hai fatto i punti se vuoi o che hai sbloccato il premio e ovviamente alla fine tu hai anche tutto il database con quanta gente ha fatto quanti punti lo esporti lo puoi portare su mailchimp per esempio e mandare comunicazioni mirate sul dopo tipo allora visto che hai fatto 50 punti ti avevo detto che hai sbloccato il coupon da 50 euro ecco il tuo coupon vero il codice da spendere e il il concetto quindi era che poi da vera loops ti si crea una lista ordinata per punteggio poi la esporti la rimporti nel tool di mail marketing tra parentesi uno potrebbe anche fare un'automazione con zapier if edu se fa questo succede quello oppure aspetti noi avevamo un tempo c'era un tempo limitato quindi senza far scattare mille automazioni anche perché poi le paghi cioè sono gli accessi dopo un tot no con zapier scalano il pricing in quel modo se hai mille connettori ci metti un attimo a bruciare tutto il mese e abbiamo aspettato che finisse poi abbiamo fatto export di un foglio excel carica su mailchimp dopodiché il premio da 50 punti chi ha fatto 50 punti crea una lista chi ha fatto fino a 20 che ha l'alto premio crea una lista eccetera eccetera e questo ci ha permesso di sfruttare tutta quanta la gente che già era diciamo affezionata alla community e questa è la cosa importante vi consiglio di guardare quel video se vi interessa sta roba ripeto perché ovviamente lo spiego molto meglio ma la community era sul problema non sul prodotto era una community viaggiatori no di utenti di quell'app questo ha fatto la differenza con la l maiuscola in questa strategia e varia loops ci ha servito perché invece di andare a freddo a parlare a sconosciuti abbiamo usato abbiamo fatto leva sulla relazione che avevamo costruito per far sì che le persone entusiaste consigliassero altri amici che evidentemente potevano essere interessati a questo tipo di a questo modo di viaggiare un po particolare domanda come funziona il progetto in portogallo è un po tardi per chiederlo perché ormai è pieno per chi non sa di cosa stiamo parlando sui miei canali qualche tempo fa ho annunciato poco tempo fa ho annunciato una sorta di test un corso un bootcamp sul grotagian che si viene in portogallo appenisce con italiani ed è sostanzialmente una una partnership non è una cosa che facciamo noi da soli né io sono founder di questa cosa mi sono messaggi che forse si capiva male però c'è una start up innovativa che si chiama creative arbor che io vi consiglio di spulciare che proprio nel momento peggiore e migliore si è inventata questo format di esperienze dove si si passa il tempo insieme si vive insieme si impara insieme si lavora insieme quindi sicuramente dedicata a persone digitali che lavorano da remoto che possono che non solo che possono essere in qualsiasi parte del mondo ma gli piace vogliono essere in diverse parti del mondo per passare questo tempo insieme a creare networking tra professionisti mentre intanto però per esempio vai a fare self per dire no e hanno fatto già dei dei test perché poi diventate immaginate anche tutto l'aspetto di team building aziendale sono tante strade che si possono prendere con un progetto del genere e gli era venuto in mente però di fare un secondo tipo di format che non è solo andiamo la persone fighe che fanno cose fighe magari ognuno lavora col suo ma ci contaminiamo ma metterci una parte di formazione quindi ci siamo parlati e mi hanno proposto di di fare far parte del primo esperimento di questo tipo di format quindi un bootcamp quindi della serie la mattina ci sta la parte diciamo di lezione il pomeriggio chi vuole va a surfare a prendere il sole si mette al computer eccetera e la sera facciamo un minimo aperitivo confronto feedback domande che sono uscite fuori però in questo modo le persone e in un certo senso da un lato hanno l'esperto che in questo caso sono io sempre a disposizione che è una cosa che sembra banale però anche nella mia esperienza da formatore lo dicevo anche poco fa in un'altra call spesso i momenti più ditemi anche voi se siete d'accordo se vi è capitato ma spesso i momenti più non voglio dire la parola impattante ma è davvero difficile uscire da questo lingo dell'agenzia più più significativi più significativi dell'esperienza di fare un corso anche offline sono le pause caffè o l'aperitivo dopo il corso in cui uno vale uno stiamo faccia a faccia è finito l'ossessione del timing della lezione il tempo agli orari eccetera la domanda no poi disturbo la chiedo dopo si parla tranquillamente senza limiti si parla di esperienze e sono spesso i momenti in cui ti scambi le cose più importanti che è un paradosso perché uno si aspetta che la cosa più importante la dici nella scaletta e per chiarità la scaletta è piena di cose importanti però quel tipo di mood di interazione spontanea di essere libero di chiedere qualsiasi cosa e chiacchierare spesso ti porta poi a toccare un livello di contaminazione professionale ma anche umana che normalmente non necessariamente capita anche perché siamo seduti c'è un docente c'è uno schermo e così via e quindi avere l'opportunità di mescolare la formazione in parte frontale ma anche no alla contaminazione è una cosa molto figa perché chi sta in portogallo che saranno solo dieci persone sono avranno l'opportunità di chiacchierare ma anche tra loro non solo con me e io con loro anch'io mi aspetto di imparare tanto da queste persone con background diversi in questa esperienza e quindi diciamo cogliere la potenza di questa pausa caffè spontanea e spalmarla a lungo una settimana in più sta in portogallo che te lo giri hai un'esperienza nuova in un paese nuovo c'è il surf stiamo davanti all'oceano c'è il sole quindi insomma niente niente male ovviamente se va bene ne faremo altri e ne faranno comunque altri anche senza di me chiaramente su altri temi andrea dice giustamente per esempio le chiacchierate alla fine dei vari sprint lab e sono non posso non essere d'accordo è esattamente quel tipo di momento ok prossimo punto come faccio a convincere un imprenditore o cliente che il metodo lean è quello giusto da seguire beh io ti direi che diciamo la parte da toccare in questo senso è mi fa mi dispiace dirlo perché è così difficile farlo però è la cultura è quasi sempre la cultura e quindi non credo che tu possa convincerlo facendogli non lo so con 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 le strategie con le tattiche col template a malapena col caso studio ma il caso studio aiuta probabilmente se un imprenditore si oppone a questo tipo di approccio alle cose consciamente inconsciamente è perché non vedete le stesse cose quando vi guardate intorno interpretate la realtà il business alla luce di di valori diversi di modi di interpretare la realtà diversi stamattina parlando con un'azienda o proprio su questo tema dicevo che chiedere chiedere il permesso magari al tuo capo di fare gruotacking in un'azienda più tradizionale che non è che non è che non accetta di dire il fallimento non è fallimento il fallimento è partagione il fallimento è fallimento e ti licenzi io che sei scemo io non voglio fallire un'azienda che vede le cose in questo modo chiedere il permesso di sperimentare di avere questa libertà di manovra è un po come chiedere a un musulmano di essere battezzato cattolicamente non non ha senso cioè non 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 no non non si incolla non rimane attaccato il processo su una cultura che non è allineata con quei valori viceversa paradossalmente se la cultura è allineata quella è il caso in cui è capace che l'imprenditore il cliente ti dice ah vabbè ma io l'ho sempre fatto ma perché se tu ti guardi intorno e vedi roba che cambia velocemente difficoltà nel prevedere il futuro della tecnologia dei canali dei prodotti della competizione e vedi e vedi il bisogno di studiare e il rischio di fallire il rischio di spendere tutto il budget su un cavallo solo il gruotacking non lo deve insegnare a Sean Ellis è buon senso ti viene quasi naturale fare quelle cose poi le chiami in un modo diverso ma è naturale farlo se quando ti guardi intorno il contesto che vedi è quello quindi viceversa se ti mettono il basso tra le ruote probabilmente perché quando si guardano intorno il contesto che vedono è diverso quindi ti direi non puntare nella tua opera di negoziazione sul tool sulla cosa che sta troppo in basso ma prova a capire quali sono le obiezioni e prova dopodiché a convincerlo un po come se fosse una vendita come sempre cerca cerca di capire le obiezioni chiediglielo perché credi che ci convenga fare il mega piano e non credi che ci sia un'altra probabilità che succede questo conosci il caso di questa azienda quest'altra azienda in che modo pensi che noi siamo diversi e sempre tenendo in mente tenendo a mente il fatto che tutto il presupposto di questa conversazione deve essere io e te cliente capo manager stiamo dalla stessa parte se ti faccio queste domande se io insisto non è perché ce l'ho con te non sto mettendo in dubbio la tua bravura la tua etica il tuo modello non è me contro di te ma stiamo avendo un dibattito produttivo per capire qual è il bene per l'azienda siamo alleati in questo quindi attenzione attenzione anche a non incontrare obiezioni personali che rendono difficile fare questi discorsi perché giustamente dire sicuramente ecco per risponderti sicuramente non riesci a convincerlo se fai passare il concetto tu sei scemo io sono un genio tu sei vecchio sono millennia mi devi dare retta non vai nessuna parte con questo tipo di approccio perché tira fuori il il guardiano dell'ego personale che tu devi cercare di di aggirare quindi devi essere molto chiaro sul sul motivo per cui proponi queste cose sul motivo per cui rompi le parole e cerchi di dire che il modo di fare vecchio quest'altro è sbagliato e andrea dice effettivamente quando parlo di lino grotagin subito l'obiezione se gli dico cosa farei senza magari senza chiamarlo esatto la risposta è mi sembra logico esatto anche in realtà andrea ha detto una cosa dice una cosa super mega intelligente attenti anche al linguaggio perché è vero che in alcuni contesti la parola hacking può spaventare l'inglese può spaventare in italia come si chiama si chiama se lo fai e funziona va bene se chiamarlo sperimentazione se chiamarlo scommetti su più cavalli proviamoci fa passare l'idea chiamalo così anche perché comunicare queste idee vendere tra queste idee fuori l'azienda se sei un consulente ma dentro se sei un imprenditore dell'azienda non solo il fondatore anche un una persona proattiva che prova a fare il bene dell'azienda fa parte del tuo mestiere tu non facevi non facevi marketing vendi fai marketing alle tue idee una cosa che infatti che mi e poi andiamo avanti che mia mi affascina moltissimo da un lato mi fa schifo dall'altro mi affascina moltissimo parlando del contesto delle agenzie di comunicazione pubblicitarie diciamo antiche storiche il fatto che tu da pubblicitario devi essere in grado di picciare le tue idee per la creatività pubblicitaria perché tu devi convincere il resto del team il tuo capo che si deve fare così che la tua idea è una genialata e per ovvi motivi se mi conoscete non sono un super contento del processo puramente creativo brainstorming però credo che sia un aspetto super mega sottovalutato la capacità di vendere le idee anche dentro l'azienda prima che al cliente e per chi fa il consulente è un must perché chi fa il consulente non solo fa marketing ma deve anche essere il sales di se stesso il commercialista di se stesso no che è la partita iva eccetera quindi impara tante cose diverse è una one man band un'azienda in uno quindi sei obbligato a fare i conti perché magari sai fare le campagne per dire sai fare le campagne facebook ma non sai vendere il servizio di fare le campagne facebook e allora devi risolvere devi apprenderla questa cosa ma spesso anche i dipendenti che è dentro l'azienda deve essere in grado di venderle le proprie idee al capo al team member e così via ed è una skill molto 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 importante tutta questa logica di negoziazione interna dopo di che ciao luca dopo dopo posso trovare la mini a dove posso trovare la mini guida 15 post facebook per engagement dei gruppi che hai presentato che tra l'altro citavo sempre allo stesso intervento di prima allora la recupero me la segno giurin giurello che la metto nel su telegram stasera la devo recuperare perché è un pdf per chi non la conosce era un pdf che avevo fatto tra l'altro alla fine di quell'intervento e grazie anche a questa esperienza di community di gruppo di che citavo abbiamo raccolto 15 tipi di post 5 più per gruppi b2c diciamo 5 più per gruppi di networking tra professionisti aziende diciamo b2b e 5 che vanno bene un po sempre che sono un po delle delle red bull di engagement che tendenzialmente essendo anche in alcuni casi generici riescono però a sbloccare e diventare quel classico post non dico virale perché siamo dentro un gruppo facebook quindi non è che scappano però con un tasso di engagement molto alto e quindi magari se cerchi di dare una scossa alla tua community zombie che nessuno ti commenta magari riesci a riportarla in alto a far ricordare alla gente che esisti grazie a questo post e poi rientri nel tuo piano di contenuto as usual e porti avanti insomma il tuo discorso dopodiché avresti feedback riguardo a questa idea una piattaforma dove le aziende diversificano il loro processo di reclutamento la piattaforma vede come protagonista da una parte le aziende che possono pubblicare annunci stabilire un premio per chi segnalerà la risorsa che verrà assunta dall'altra parte segnalatore una possibilità di segnalare attraverso i contatti potenziali è una cosa super mega ultra sensata ed è una cosa anche che abbiamo sperimentato in un caso però in generale su questo tipo di discorso credo che ci sia un interesse crescente perché ci sono ecosistemi soprattutto quelli che conosco sono quelli tecnologici dove c'è scarsità esatto vecchia volpe dice nelle big già ci sono dei premi che perché segnala persone è vero perché c'è così e anche dice 600 mille euro è vero sono anche consistenti ma perché immagina che sei quel tipo di azienda che ha bisogno di un esperto di realtà virtuale ma quanta gente c'è non dico col pezzo di carta ma con anche l'esperienza concreta e magari in un caso simile che ci capisce di realtà virtuale è difficile pensa l'espertone di blockchain nell'intelligenza artificiale tutti quanti quei mestieri tecnologici su nuovi trend è difficilissimo sgamare qualcuno che non solo abbia il pezzo di carta e il profilo linkedin ottimizzato ma la competenza seria e quindi la rete spesso risolve e la rete la smuovi in quel caso insomma se gli dai un incentivo anche perché spesso l'azienda non è piccolina e hanno più un problema di risorse di tempo che non di soldi risorse umane e tempo dicevo staccato che non di soldi quindi molto volentieri ti danno anche di più di mille euro se gli risolvi un problema così grande che per loro viceversa una volta risolto ha a sua volta un grande un grande impatto un grande effetto sul sul business perché li viene smesso di sbloccare progetti lanciare nuove cose eccetera eccetera quindi ti direi è una logica che che esiste che in parte come diceva vecchia volpe già 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 è adottata e non conosco il mercato ovviamente ti direi studia trova competitor capisci cosa funziona però è un business model che che ha assolutamente senso e anch'io per esempio quando l'abbiamo testato in un caso che lavoravamo su lighting abbiamo dovuto inventare un sistema a mano perché promette non non esisteva un tool del genere una piattaforma del genere quindi probabilmente il buco del mercato c'è però ti direi indaga studia non non basarti sul mio feedback anche perché non non sono finché non sono tuo cliente non mi da retta questo metto le mani avanti a ecco altra cosa che aggiunge su questo e dice a vecchia volpe altra cosa sono aziende come runstat che hanno accordi con big e vivono di segnalazioni di persone è vero vero ma perché appunto per per alcuni ruoli o per alcuni livelli di seniori che non lo so se il cv o il colloquio che ti dà la svolta o anche o anche solo ancora prima a livello diciamo di traffico di far conoscere l'opportunità non le raggiungi quelle persone e quindi la segnalazione è una svolta domanda definite sempre un obiettivo numerico prima di lanciare un esperimento ci sono delle casistiche in cui non lo fate e quali allora definite un obiettivo numerico prima di lanciare un esperimento sì cazzo sì mi sentirei di dire assolutamente e questo questo approccio è figlio dell'impostazione in un certo senso empirico scientifica no è anche lo scienziato che tira la palla per vedere se cade quella gravità a una tesi che vuole dimostrare a delle ipotesi progetta un esperimento e quindi in questo caso l'obiettivo numerico quindi quantificabile esiste anzi a più livelli come diciamo spesso noi utilizziamo gli ok in particolare però anche per chi non li usa in generale l'obiettivo ti dà la direzione i kpi la parte numerica ti deve far capire se ci sei arrivato perché facendo l'esempio con una formula trasversale molto famosa quella degli obiettivi smart no s ma rt un obiettivo è smart quando ha delle caratteristiche specifiche è specifico è misurabile è diciamo ottenibile realistico è basato sul è rilevante e poi la t è time base è temporizzato c'è una scadenza dire voglio più lead ma così come dire voglio dimagrire non ti permette di avere di mettere poi in campo le azioni giuste misurate efficaci per arrivare là semplicemente perché non hai un modo per sapere se ci sei arrivato se io dico voglio dimagrire e poi perdo quattro chili in una settimana oltre al fatto che probabilmente dovrei fermarmi perché quattro chili una settimana sono un botto però sei contento non sei contento lanciamo un webinar e poi vediamo quanta gente abbiamo 80 iscritti ebbene è male siamo contenti siamo tristi e poi si fanno le riunioni per vedere se siamo contenti o siamo tristi parlando del nulla di opinioni cosa ci rende contenti e cosa ci rende tristi dovrebbe essere deciso prima di far partire il webinar e dovrebbe essere deciso sulla base degli obiettivi di business in che fase siamo cosa vogliamo fare dove vogliamo essere tra un anno e 35 10 eccetera eccetera il tuo percorso di realizzazione della vision attraverso la mission e quindi si lanciare obiettivi lanciare esperimenti senza obiettivi e numeri significa sperimentare nel vuoto non è utile non è efficace è un esercizio di stile ecco e tra parentesi ci sono casi in cui hanno senso gli esercizi di stile per esempio quando uno fa un corso nel workshop per per provare no uno fa un esercizio sti cavoli se l'azienda non esiste e ogni step del funnel è uguale all'altro è una prova è un giro è un giro di prova controllato lì va bene magari un'azienda che sta che è tra virgolette incancrenita da tanti anni di metodologie tradizionali e che hanno cominciato a ad annusare il fatto che potrebbero utilizzare queste metodologie soprattutto su roba digitale innovativa in quel caso può avere senso di riguarda senza complicarci la vita intanto facciamo un esperimento un esperimento qualsiasi impostiamo una bit test sul colore del pulsante sulla landing con google optimized google tag manager eccetera e vediamo come va quello è un espediente per avere un pilota avere dei dati poter raccontare questo caso internamente creare quell'inerzia che poi non so se migliormente si dice inerzia però inerzia è una parola un po brutta nel senso inerzia sembra una cosa lenta invece in inglese hanno questa parola bellissima che è momentum che rende molto più l'idea della dell'effetto palla di neve no il momento è un'inerzia positiva è la schicchera che poi si ingrandisce sempre di più serve a andare sul campo a tutti i costi nel minore tempo possibile perché a volte tu sai che se davvero dobbiamo fare tutto preciso gli step ci mettiamo un anno perché ancora stiamo usando processi con i loro tempi con una dinamica diversa quindi piuttosto che metterci un anno a decidere cosa fare scegli tu famo la cosa più semplice però facciamo un esperimento quello è un caso in cui è un caso diciamo appunto sportivo di test anche giocoso e va benissimo così per prendere familiarità con queste cose lì l'obiettivo l'obiettivo è lanciare l'esperimento non importa come va l'importante è fare un giro della ruota magari insieme seguiti da 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 un progetto però quando devi fare growth hacking growth hacking sperimentazione è l'obiettivo ci deve essere sempre casistiche in cui non lo facciamo pensandoci possono esistere e il caso in cui sì momentum è latino eh beh sì scusa si dicevo inglese però nel senso gli americani lo usano tranquillamente per noi non è una cosa particolare cioè è una cosa anzi è una cosa molto particolare non si sente mentre invece in gergo si usa tranquillamente e e dicevo caso in cui non lo facciamo probabilmente l'unico caso in cui non lo facciamo è quando lavoriamo di comunicazione pura mi verrebbe da dire perché perché ci sono degli elementi che tra l'altro è un tema di cui parlavamo con stefania comunicazione versus vendite no ci sono degli elementi che riguardano la comunicazione che sono difficilmente paragonabili al marketing diretto hanno proprio delle dinamiche diverse e ma nonostante questo hanno senso quindi faccio un esempio da un lato è vero come dicevo quella volta in quella live in cui c'è stato questo dibattito quasi filosofico molto interessante su io non ho mai letto un caso studio che dice ecco come ho fatto 300 mila euro investendo 30 mila euro in brand awareness nel far circolare il marchio da un lato c'è questo quindi se il tuo obiettivo è portare revenue fatturato eccetera c'è una lista di cose anche piuttosto numerosa che puoi fare prima di arrivare a fare visibilità pura e brand awareness ma questo non significa che la brand awareness non serve a niente inutile fa schifo fa schifo se il tuo obiettivo è vendere e misuri il tuo successo sulla base di quante vendite fai dopodiché esistono n casi rebranding pivo partnership la parte base di posizionamento di generale degli elementi del marketing strategico dove questa cosa non mi farà vendere ma la devo fare lo stesso ma ha senso farla lo stesso paragonare una campagna di pubblicitaria online con un comunicato stampa certo che fa schifo il comunicato stampa certo che è follia non puoi misurare il il roi non puoi trattarli allo stesso modo lavorano su livelli diversi in quei casi consapevoli del fatto che lavorano su livelli diversi spesso l'obiettivo è farlo l'obiettivo è mandare questo segnale nello spazio perché è un obiettivo strategico per esempio dico una cavolata cioè un esempio semplice però penso sia pertinente noi non abbiamo una metrica per misurare il roi di essere come noi come 247x non abbiamo una metrica per misurare il roi di essere partner di growth hackers.com non c'è un indicatore su analytics che dice ecco come va essere parte di growth hackers.com sarebbe abbastanza folle trattare una partnership un elemento di credibilità di posizionamento di autorevolezza come se fosse una creatività di facebook ads non è la stessa cosa e quindi non puoi trattarla allo stesso modo ma allora significa che non devo essere partner di nessuno devo fare solo facebook ads è meglio no nemmeno sono due elementi diversi del del marketing della comunicazione ed è giusto trattarli diversi quell'impostazione prettamente numerica scientifica che va benissimo per la parte di sperimentazione probabilmente su elementi del genere ha un po meno senso detto ciò esistono anche sistemi per misurare queste cose però rischiano spesso di essere esercizi di stile cioè ottieni ti inventi un sistema per attribuire un numero a questa cosa che hai fatto ma onestamente mo che lo sai che ti cambia cioè faccio faccio un esempio a noi è capitato come azienda di fare alcune cose del genere nel momento in cui dopo a seguito di alcuni casi di successo con aziende e commerce abbiamo deciso di provare a verticalizzarci sull'e commerce e lavorare solo con e commerce per un po in quel momento c'erano degli elementi fondamentali anche per la performance ovvero passare da 24 7x lavoriamo con aziende startup eccetera eccetera a dire 24 7x lavoriamo con e commerce punto se non sei un e commerce non ci chiamare e questa roba e la devi dire cioè è un cambio di identità di posizionamento converte di meno chi se ne frega fa parte del gioco fa parte del nostro posizionamento del linguaggio del messaggio eccetera va detto converte di meno rispetto all'altro sito eh ma eh serve a far sì che 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 la nostra strategia sia effettivamente stabilita nel mondo serve a creare quell'effetto a catena di alterazione delle percezioni delle persone del mercato delle aziende che poi in altri modi si tradurrà in maniera indiretta anche a della performance ma ha veramente senso misurare per esempio del fatto che ecco mettiamo caso che potessimo sapere ehm di un del fatturato eh dell'anno in cui siamo stati commerce versus l'anno in cui non lo eravamo quindi questo delta di questo incremento di fatturato quant'è la porzione che dipende dal fatto che abbiamo fatto il sito con i tasti rossi invece che il sito con i tasti blu perché nel nostro design la nostra palette c'era il rosso scuro è un cioè un ma una volta che lo sai che uno potrebbe dire beh allora sperimentiamo pure sul brand design sul logo sperimentiamo tutto mettiamo in dubbio tutto veramente ti interessa avere cioè davvero ti interessa mettere in dubbio anche queste cose eh pensi che sia azionabile questa informazione molto spesso secondo me non lo è perché a un certo punto trovi come muro ma è un limite positivo secondo me la missione la visione cioè se io sto costruendo un'azienda che avrà impatto su questa cosa del mondo e e poi mi faccio non lo so customer discovery intervisto i clienti i clienti mi dicono no non voglio che salvi il mondo cara tesla con la luce io voglio una nuova lavatrice tesla gli dice va fa cura non sono io mi dispiace io ho deciso di avere impatto in questo senso quindi è la sperimentazione ha dei limiti ha delle degli elementi che che non si toccano ma perché se tocchi quegli elementi cade il motivo per cui esiste quell'impresa probabilmente cioè l'imprenditore dice ma io non volevo fare questa azienda non voglio lavorare in questa azienda me ne vado ne faccio un'altra e quindi è normale che in un certo senso che ci siano dei dei pilastri sacri che derivano da un'altra parte un'altra faccia della medaglia che è il marketing strategico la visione la missione eccetera eccetera che ti danno il campo da gioco all'interno del quale tu sperimenti altrimenti sappiamo manco come ci chiamiamo la mattina se dobbiamo sperimentare sul nome il logo tutto diventa diventa un'azienda che potrebbe gestire un calcolatore a random estrai un'azienda a random che fa cose a random variate al mercato però se il mercato vuole a tu fai a poi vuole b devi fare b se non c'è un filo conduttore probabilmente c'è qualcosa di sbagliato non hai una base solida non hai una visione la visione in un certo senso è proprio a farti manzionare la rotta tips and tricks di public speaking che non si trovano su google tips and tricks di public speaking che non si trovano forse qualcuno l'ho già detto uno che consiglio che io spesso faccio se hai modo vai in anticipo non nella stanza dove parlerai sul palco dove parlerai quando non c'è nessuno alle cinque di mattina mentre gli altri non devi fare niente di speciale devi passeggiare però una cosa che aiuta soprattutto chi magari c'ha un po d'ansia è far sì che quello che vedi nel momento della verità in cui dovrai parlare non è la prima volta che lo vedi certo quando c'è poi ci sono le persone però aver già visto la stanza aver avuto quella prospettiva è come aver fatto la free trial della situazione che ti troverai ad affrontare no dopo di che un altro un altro consiglio è quello di provare a giocare con il pubblico che non significa essere simpatici significa trovare il modo di dimostrare a se stessi che comandi tu e e quindi diciamo restituirti lo scettro del potere se non sei calmo eccetera nel senso che faccio un esempio mi è capitato di parlare con un collega che anche a livello di meeting di riunioni interne magari aveva non dei problemi però mi diceva che a volte si sentiva in difficoltà a parlare sapendo che tutti noi altri lo ascoltavamo in silenzio su summit sentiva come il bisogno di dire più cose di andare di fretta o di si dimenticava le cose perché sentiva la pressione del fatto cazzo tutti prendono le mie labbra in questo momento ho una responsabilità e io gli ho consigliato di fare proprio questa cosa per cui penso magari riesco a spiegare il giocare con il pubblico io ho detto quindi tu percepisci che quando ci sono dei momenti di silenzio non sai cosa pensano gli altri magari stanno prendendo in giro stanno insultando pensano che detto una cazzata tu non lo sai c'hai ansia prova a farlo apposta cioè tu in questo momento c'hai ansia per dei momenti di silenzio che non controlli mettici un momento di silenzio che decidi tu preparati nello speech che tu dirai ciao a tutti buonasera io sono luca e oggi parleremo di grotaghi e poi avanti invece di farti cogliere la spropista di silenzio imbarazzanti mettici by design un silenzio imbarazzante apposta che però tu controlli conti e governi e con questa scemata vedrai che numero uno come dice becchia volpe questa è una cosa che faceva adolf hitler crea attenzione e suspense quindi in realtà c'è anche un effetto positivo ma soprattutto dimostra a te stesso nel momento peggiore possibile con una cosa che normalmente capita ed è tremenda che non succede niente che continuano ad aspettare che tu vada avanti e dica quello che devi dire e quindi ti dà questa piccola ma secondo me potentissima dimostrazione del fatto che tu sei quello che comanda non loro loro sono mille guardano tutti te non comandano loro comandi tu se tu stai zitto loro aspettano che tu parli ti permette di dimostrare che anche una cosa brutta ansiogena quando succede pensa ce l'hai messo apposta non succede niente e ti fa capire che tu dai il ritmo al discorso e quindi in realtà non può succederti nulla quindi non è una cosa manipolatoria è una cosa per per tranquillizzarsi non ho che devi prendere in giro la gente però lo trovo quasi terapeutico io l'ho fatto in maniera manipolatoria per per divertirmi tipo vediamo quanto è la posso andare vediamo se mi danno retta così anche per provare cose nuove sperimentare cose più più particolari però in generale per chi proprio per chi invece non è abituato non lo fa per gioco ma c'ha ansia penso che possa essere molto 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 terapeutico per avere questa dimostrazione che in realtà come diciamo davvero vengono le tue labbra non non ti sbranano se non sai cosa dire per un secondo esperienza di grotta che prodotti o servizi nel legal ma che ci penso ne abbiamo ne abbiamo avuta una con un servizio di un servizio praticamente per sbloccare la 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 villa visa la la cittadinanza italiana a persone americane con parenti italiani di fatto ti direi non è che era poi tanto diverso da altri tipi di consulenza nel senso il la customer giorni alla fine è molto simile in quel caso era una consulenza certo ci sono delle chiamate degli scambi di documenti diciamo una consulenza con un ciclo di vendita un po lunghino perché mi devi mandare tanti documenti magari devi recuperarlo darmi dati io faccio delle analisi io avvocato in quel caso quindi in quel caso erano i nostri clienti e che noi aiutavamo ad accogliere americani interessati a questa cosa c'è sicuramente una parte di filtro perché le pratiche le devi controllare i documenti eccetera però di fatto alla fine non è troppo diverso per esempio da come 24 7x vende la consulenza cioè c'è una call vediamo se siamo adatti a lavorare insieme se posso effettivamente aiutarti poi ti chiedo di leggere delle cose e mandarmi delle cose contratto preventivo strategia in quel caso la paperwork della roba legal per l'america verifico che tutto in ordine e poi partiamo e poi in quel caso di disblocco la visa in quel caso sto pensando a criticità cose che abbiamo imparato ecco una cosa diversa rispetto a 24 7x è che comunque noi ci rapportiamo alla fine siamo in un certo senso imprenditori marketer che si rapportano spesso ad altri imprenditori marketer o imprenditori o marketer quindi in realtà noi abbiamo un linguaggio molto simile con i nostri clienti sicuramente sono clienti a cui vanno spiegate più cose magari però tendenzialmente a livello di mentalità siamo molto simili in quel caso invece consulenti ferratissime sulle politiche la legge internazionale questa parte qua si confrontavano con dei signori che magari neanche lo sapevano dove stava nel documento come funzionava e che succede che essendo una comunicazione digitale internazionale da skype call email magari il signore di 50 anni non è abituatissimo usare le mail e quindi dopo il primo contatto che sparisce e fare le chiamate in america serve un po un'infrastruttura se non dico non passando dall'online per usare un canale più familiare più tradizionale come il telefono e quindi di fatto va capito come semplificare l'esperienza il più possibile anche se legalmente ci sono degli step e soprattutto come fronteggiare il fatto che non necessariamente ti confronti con persone super tech anzi e quindi devi capire loro abitudini i loro limiti e ristrutturare la customer giorni per ritagliarla per per no come si fa di solito per non farli pensare don't make me think per dargli le istruzioni quello che devono fare il loro percorso su un piatto d'argento con la massima semplificazione possibile senza fargli fare cose strane tipo allora caro signore americano del dell'oclaoma scarica quest'app mi metti questa cosa poi viene nel gruppo telecam ci sarà un webinar devi scrivere no non funziona non ci vengono non capiscono non gli interessa non l'hanno mai fatto non lo faranno che farò un favore a te quindi questo è e queste sono state un po le difficoltà ah scusa l'altra difficoltà che mi viene in mente è il fatto che in questo flusso di consulenza chiaramente c'erano le consulenti le chiamate con le consulenti che erano che erano da un lato consulenti legal dall'altro che pronte al telefono espertissime della legge del processo delle richieste eccetera ma dall'altro non erano dei venditori e delle editrici e questa parte un po è mancata all'inizio quindi un'altra cosa che ti direi dovendo riaffrontare quel progetto ti direi o farei più training o mi assicurerei del fatto che le persone che in quel caso che sono il tuo cliente che sono dalla tua parte state insieme a cercare di portare risultati siano allineate siano pronte non solo essere esperti di settore bravi avvocati esperti di legal con grandi conoscenze ma anche capaci di vendere nelle piccole cose consapevoli del fatto che la mail mandarla subito dopo la call poter fumo la segretta o mandarla tra tre giorni non è uguale ma manco per niente è uguale cambia tutto cambia tutto cambiare approccio dal vabbè l'ho chiamata non mi ha risposto non gli interessa a sapere la disciplina e l'importanza del follow up cambia tutto cambia tutto quindi spesso spesso scambiamo magari membri del team dei nostri clienti come persone che hanno magari tutte queste due facce no sono sia esperti di quello che fanno sia hanno la capacità di se stanno al telefono e fanno consulenza anche di vendere la consulenza e invece spesso non ce l'hanno e dovrebbe essere preoccupato come dicevamo spesso manca l'aspetto commerciale è vero e quindi dovremmo prenderci cura anche di questo aspetto in caso magari aiutarli fare delle call di esempio con loro dargli delle procedure degli script formarli sull'importanza del follow up delle vendite perché altrimenti tu porti opportunità e loro non le chiudono non perché non sono competenti in quello che fanno ma perché non conoscono i processi di marketing i processi di vendita e quindi poi invece di avere un alleato c'hai un sabotatore e non non consapevole però sabota tutte le opportunità che tu crei e e poi indovina di chi è la colpa quindi insomma prima di rendi conto prima agisci per aiutare e meglio è non ti trovi in questa situazione quando si parla di creare un team di crescita in un'azienda per la prima volta quali figure dovrebbero essere inserite io ti direi qualsiasi combinazione che permette a queste persone a questo micro team di essere indipendente indipendente che significa indipendente significa che se vogliono lanciare un esperimento io parlo di digitale tra parentesi che è il caso tipico poi sui prodotti questo sia un'altra altre parentesi altri mondi ma indipendente dai dipartimenti core classici nel lanciare esperimenti ovvero un team di crescita che per fare una landing page deve interrompere introdursi nell'agenda del day by day del dipartimento design di tutta l'azienda ha un problema perché probabilmente quei dall'anni glielano tra un mese e quindi non sono lì per niente risolvono il problema se strutturalmente proprio anche qua a livello di progettazione di chi ci dovrebbe stare in questo team si prendono un designer da lì che spesso magari lavora part time lavora per il design dell'azienda part time fa il designer del team di crescita quindi non è che glielo rubi o lo assumi apposta ma diventa appunto un team cross funzionale non solo a livello di diversi dipartimenti che partecipano ma anche a livello di persone che continuano in parte a reggere i progetti del core business dell'azienda intera ma anche dedicano parte del tempo come nucleo autonomo di team di crescita quindi se se questo è il caso cioè il team di crescita c'ha tutto ma se serve il copy deve rompere le palle al dipartimento copy che fa mille altre cose evidentemente io ci metterei il copyright un copywriter nel team di crescita altrimenti lo stoppi tipicamente quello che cercherei che mi aspetto è molto simile a un micro team di founder di startup dove c'è un esperto di tecnologia un programmatore magari qualcuno che ci capisce con i dati dei dati che spesso è insieme il programmatore marketing marketing content copy questa parte qua design e prodotto in generale design marketing e it intesi poi in tanti modi diversi però per esempio ne parlavamo prima no se io dovessi immaginare con il caso del legal un team di crescita di un progetto del genere porca miseria datemi anche un sales là dentro perché nel nostro percorso le call di vendita la processo commerciale ha una rilevanza grande e quindi mi piacerebbe essere indipendente anche nel testare nuovi flussi nuovi modi di fare la telefonata nuovi follow up e se devo per forza rompere le palle a tutti i sales al dipartimento sales probabilmente ci diamo la zappa sui piedi da soli insomma e questa era l'ultima ottimo non va avanti molto bene quindi nel frattempo ha fatto un puio l'unica la luce dello schermo che mi illumina vi ringrazio di essere stati insieme ad ascoltare queste domande risposte penso che spero non penso non sono così ego umaniaco spero che sia stato interessante e detto ciò vi lascio andare a cena sono tornato quindi vi anticipo già che domani sarò live con federico sbandi della chito combat academy ci faremo una bella chiacchierata su come funziona la formazione sul digital in italia come si gestisce una scuola che fa digital e qual è la sua visione perché federico è davvero un un professionista non solo bravo sono tante le persone bravi ma professionista con una rara chiarezza su ciò che vuole fare e come vuole farlo e infatti lo sta facendo lo sta facendo molto bene e sono molto felice di farne parte come docente per la parte di growth hacking e qui niente su questo ci vediamo stasera vi consiglio tantissimo di partecipare detto ciò grazie ancora del vostro tempo come sempre buona sera da tutti e ci vediamo domani sempre su twitch ciao ciao